Cambogia E questa coppia ha ottenuto un terzo posto all'NHK a Nagoya Per loro Feeling Good di Michael Bublé Sì che bellissimo, l'abbiamo già visto all'NHK Devo dire, anche qui una scelta di musica particolare però che premia Sì perché da una ragazzina l'interpretazione su una musica in stile un po' blues E' particolare insomma Non è facilissimo ad aggiustare E' particolare insomma E' particolare insomma E' particolare insomma E' particolare insomma E' senza dubbio una bella interpretazione da loro Grazie a tutti